Quattro giorni di palio per 15 contrade pronte a colorare prima i loro quartieri e poi Rocca Costanza e Piazzale Matteotti in occasione della dodicesima edizione del Palio dei Braceri. A pochi giorni dall'annuncio di una possibile riapertura degli eventi nella corte, è il fossato di Rocca Costanza a tornare ad animarsi con un Palio dei Braceri che innesca la festa dal 25 luglio e che avrà il suo clou nella competizione del 28 luglio. Quattro giorni palio che è dal 25 luglio al 28, si inizia appunto il 25 con l'allestimento del villaggio gastronomico qui sopra i giardini di Rocca Costanza, ci saranno 10 stand presenti legati alle contrade che offriranno un menu, comunque un'offerta culinaria molto variegata. Ci sarà il torneo di biliardino con il buon Willy e ci saranno le esibizioni degli artisti di contrada qui sulla strada davanti a Rocca Costanza, tutte le band degli artisti delle contrade si esibiranno nelle prime tre serate del Palio, quindi dalle 20 alle 24. Ci sarà inoltre l'esibizione o comunque la mostra dell'icona che è del Palio dei Braceri che è il bracere appunto. E per arrivare al 28 dove ci sarà il corteo per Rocca Costanza da parte di tutte le contrade che una volta posizionate poi all'interno del fossato partirà il tutto con la passerella, l'esibizione delle Miss per Miss Palio guidata da Lorenzo Bernardini e Lucia Giada e poi con l'estrazione delle batterie solite per le contrade. Quest'anno le contrade coinvolte saranno 15, una in meno di un anno fa con case bruciate che manca l'appello. Novità assoluta a livello organizzativo sarà quella di un biglietto di ingresso al costo di 5 euro per chi intende scendere nel fossato della Rocca la domenica della gara. Biglietti che saranno reperibili presso ogni contrada. Anche quest'anno siamo ritornati forse a una versione più simile a quelle anti-covid quindi abbastanza completa però quello che ci aspettiamo è che tutti i giovani partecipanti e i giovanissimi che parteciperanno prendano le nostre redini, al momento sono più tifosi che organizzatori però devono capire che questa è una eredità che noi vogliamo lasciare loro, che loro la dovranno portare avanti per tanti anni e quindi devono prima o poi farsi carico. Io voglio essere uno spettatore i prossimi anni e vedere qualcuno al posto mio di giovane che faccia le interviste. Un palio dei braceri che mantiene il sostegno del comune anche dopo il cambio d'amministrazione. Penso che sia giusto che come amministrazione comunale continuare a sostenere questa iniziativa. Abbiamo approvato proprio ieri in giunta le risorse necessarie per poter sostenere un evento come questo che comunque ricordo non è un evento che non costa nulla. È un evento che chiede comunque un impegno da parte del comune di Pesero. Lo abbiamo fatto volentieri perché appunto riteniamo che il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani soprattutto in un momento storico come questo sia molto importante.